Tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi volevo presentare questa vettura meravigliosa e super accessoriata che è una Volkswagen Golf GTD cambio manuale del luglio 2015 con solo 70.000 km, tutti tagliandati sul libretto service, vettura che arriva direttamente dalla Germania, ex dipendente di Volkswagen. La vettura nel bianco Oryx metallizzato, ai fare lo Xenon LED posteriori, cruise control attivo, ruote in lega da 18, vetri posteriori oscurati, la vettura è veramente perfetta, non ha un graffio, non ha una riga, è impeccabile. Sensori parcheggio avanti e dietro con retrocamera, guardate che bella. Una vettura che sembra nuova, pazzesco, tenuta non bene ma di più. Tra l'altro molto accessoriata perché ha una vera chicca che poi vi andrò a spiegare, sedili in pelle e alcantara, questa è la pelle e questa è l'alcantara, guardate, è fighissimo. Quindi abbiamo la stoffa e qua abbiamo la pelle, veramente, veramente è una macchina pazzesca. La chicca che abbiamo le sospensioni elettroniche DCC, adesso vado poi ad elencare. Quindi questa vettura ha le sospensioni regolabili che voi potete andare a regolare dallo schermo del navigatore. Guardate, è come nuova. Vedete? Stupenda. Stupenda. Quindi oltre ad avere tutti questi accessori esterni, quindi fare lo xeno, led posteriori, fendi nebbia, cruise control attivo, abbiamo anche ovviamente il pacchetto sport and sound, gli specchietti che si richiudono elettricamente, i fire automatici, il Volkswagen lane assist, ma abbiamo la retrocamera con i sensori parcheggio, vedete qua abbiamo il DCC, vedete? Con driving mode selection. Cosa vuol dire? Che qua possiamo andare a selezionare in comfort, normal, sport, eco e individual. L'individual, se noi andiamo su impostazioni, vedete DCC, cosa sono? Sono le sospensioni che possiamo andare a regolare in tre sistemi diversi, comfort, normal e sport. Più ovviamente i fari direzionali, il sound del motore e quant'altro. Quindi questa vettura, oltre ad avere il navigatore pro, perché è quello più grande, come vedete, oltre ad avere la radio, oltre ad avere il telefono bluetooth, ha anche questo fighissimo sistema di sospensioni elettroniche regolabili. In più, ha questo tastino che ha il riscaldamento autonomo, quindi d'inverno voi da casa, col telecomando, accendete il riscaldamento della vettura, magari un quarto d'ora prima arrivate sulla vettura e la macchina è già calda, o se no se la impostate parte da solo. Clima automatico, sedili riscaldati, cruise control attivo, ve l'ho già detto, la vettura è veramente molto molto figa, molto ben accessoriata. Tre anni di garanzia che valgono in tutta Italia e in tutta Europa, il libretto service, come ho detto prima, è timbrato nel cassetto qua, c'è il suo libretto originale timbrato, con i tagliandi timbrati, noi ve la daremo con il tagliando fatto di tutti i filtri, doppie chiavi, tappetini in gomma, libretto di istruzione in italiano, sanificazioni interne, lucidature esterne. Venite a vedere e provare questa Volkswagen Golf GTD 184 CV, che è veramente una figata pazzesca. La vettura la trovate da Bianco Auto a Motta di Costigliole, il numero è 0141 96 92 14 e l'e-mail è infochiocciolabiancoauto.it Ciao a tutti e alla prossima!